negli anni 70 la moda era varia ed eclettica le donne indossavano pantaloni a campana gonne lunghe e abiti maxi spesso con stampe floreali l'abbigliamento disco era in voga con tessuti lucidi e scintillanti gli uomini optavano per pantaloni a zappa d'elefante camice con colletti ampi e giacche in stile leisure suit l'abbigliamento unisex era comune con capi come jeans e t-shirt le influenze boha e hippie erano ancora presenti con tessuti naturali e accessori come i capelli attesa larga e occhiali da sole grandi le scarpe con zappa erano popolari colori vivaci e tonalità terrose dominavano la moda degli anni 70 è una fusione di stili riflettendo la cultura popolare e l'individualismo dell'epoca grazie a tutti